Barrenecea 6, viene schierato titolare al posto di Leandro Paredes, bocciatura totale per Leandro Paredes, perché comunque con i 5 cambi a disposizione Allegri non è neanche pesato di metterlo in campo, quindi immagino che comincerà a darsi una svegliata, perlomeno lo spero, perché potrebbe essere comunque un giocatore utile. Però parliamo del giovane argentino, una prestazione di personalità, senza acuti, ma comunque ordinata. Quando c'era da farsi dare la palla, lui c'era, andava a prendersela, e poi magari non ha fatto delle verticalizzazioni micidiali che noi ricorderemo, però quando c'era da giocare la palla semplice di destra o di sinistro, senza troppi fronzoli, lo faceva.